Ciao a tutti, rieccoci per un nuovo video. Questa volta faremo una cosa diversa delle altre, in quanto è un ex convento molto antico nei boschi qui vicino, dove abito io, e si chiama volgarmente la nave. E' un posto molto celebre da queste parti. Ci siamo arrivati con un'escursione, ho fatto delle foto, e niente, adesso sto cercando di rifarlo. Ho iniziato a fare il disegno sul mio sketchbook, con una matita abbastanza morbida, è una 2B, perché io, quando faccio il disegno per gli acquarelli, poi voglio vederla bene. E non mi interessa se poi dopo si vede un pochettino sotto il colore, anche perché spesso non si vede più, quindi... Poi, se il tratto viene troppo pesante, posso alleggerire un pochetto con la gomma da cancellare, qua e là. Però fondamentalmente mi piace continuare a vedere un po' di matita dopo la prima stesura, perché sennò poi dopo non mi ricordo più dove mettere gli altri colori e come andare avanti. Quindi, niente, allora, questo è il corpo, diciamo, centrale di questo edificio. E' di epoca medievale, è abbastanza... da una parte è tutto diroccato, e non si vede tutto, perché sulla sinistra era in ombra e c'era comunque tutta la boscaglia. Sulla destra c'è ancora un po' di edificio, però rimane nascosto dietro la siepe. Ora ho fatto una stesura per il cielo, mischiando blu altremare e blu intenso. Ho bagnato, perché così ho meno difficoltà a ottenere una stesura regolare. E verso l'orizzonte, però, lo lascio sempre un po' più chiaro. Poi incomincio a fare la zona sotto, che non confina col cielo, per cui non mi dà problemi di... diciamo, di sgocciolamento, un colore dentro l'altro. E introduco qua e là un po' di terra, un po' di color terra, perché effettivamente il prato era intercalato da strisce di terra nuda. È una foto fatta d'inverno, per cui la vegetazione ancora non è così lussureggiante. E con una tinta chiarissima di ocra vado a fare la facciata principale, quella che sta alla luce. Prende in piano la luce del sole. E questa cosa si deve vedere, quindi faccio appunto questa stesura molto molto leggera. L'asciugo, perché altrimenti non posso continuare col colore tutto bagnato. Ecco, adesso che la carta è asciutta, posso cominciare a mettere qualcos'altro sopra. Adesso sono sicura che i colori non mi si muovono. Quindi comincio a mettere un po' di ombra. Perché? Perché devo cominciare a dare volume a questa struttura. E con l'ombra modello praticamente i volumi. Si incominciano a vedere bene, si incomincia appunto a vedere un po' di tridimensionalità. Il colore dell'ombra l'ho fatto con terra di siena bruciato, blu oltremare e un pizzichino di rosa. Poi questa è la prima passata, poi dopo, insomma, se c'è qualcos'altro da fare lo ritoccherò. Poi metto l'ombra delle finestre. E in effetti si vede che comincia a venire fuori la forma. Finestre, porte, cioè tutto ciò che proietta l'ombra. Perché il sole lì era molto forte, molto diretto. Per cui, diciamo, la parte sopra e a destra sono molto molto in ombra. E si deve vedere il contrasto perché solo così si riesce ad avere l'idea della luce forte. Quindi, intanto ho piazzato le ombre e poi vado avanti. Ecco, adesso vado a sporcare un pochettino l'intonaco che è abbastanza malconcio, ovviamente. Quindi sempre con una tinta di ocra, con un po' di rosso inglese. In quantità miste, ovviamente. Non utilizzo mai la miscela perfettamente mischiata, ma cerco sempre di variare molto la proporzione dei colori. Quindi, stessa cosa per il tetto. Sul tetto lascio dei piccoli strappi bianchi, appunto, che mi stanno a indicare la luce che su alcune tegole, appunto, viene riflessa completamente. Quindi si devono vedere, appunto, alcuni riflessi, alcune zone completamente illuminate. L'aspetto, comunque, deve rimanere irregolare. Per cui, anche tutte le varie linee che vado a fare sulle tegole, sul tetto, eccetera, saranno spesso anche spezzate. Proprio per dare quest'idea di irregolarità. Ho fatto la porta, ma l'ho fatta troppo scura, quindi l'ho cancellata un pochetto col pennello. Ecco, sempre continuo ad aggiungere particolari, laddove vedo che ce n'è bisogno. Sempre con le stesse miscele, più o meno. Sto lavorando solo con colore di terra, qui. Quasi esclusivamente. Vado a rinforzare un pochettino l'ombra. Qualche particolare qua e là. Un po' di rossi inglesi, perché ci sono dei mattoni a vista in alcuni punti. E adesso vado a fare la siepe, da cui ho fatto la foto, praticamente. E con questo pennello molto sottile, molto lungo, che mi permette di fare questi tratti piuttosto sottili. E mi tiene anche una bella quantità d'acqua, per cui riesco a fare anche dei tratti piuttosto lunghi. E... In inglesi lo chiamano scroller, questo pennello qui. Ecco. C'è una vegetazione mista, chiaramente, come ho detto prima, è una foto fatta all'inverno, quindi ci sono molti rami senza foglie. Ovviamente, poi ci sono anche sempre avedi, ma insomma... Quindi ho cercato... Chiaramente non posso scendere qui nei particolari, anche perché il lavoro è molto piccolo. Quindi devo cercare di dare un'idea più che altro, così come ho fatto per l'intonaco, lo farò con le piante. Quindi devo cercare di dare un'idea di quello che c'è, ma non fare proprio particolare per particolare. Altrimenti si cade nello stucchevole, oltre al fatto che ci metterei molto, molto di più. Quindi vado a fare adesso una pianta sempre verde, in primo piano. E quindi vado a coprire appunto questa famosa parte destra, che non ho fatto, però c'è. Quindi... Perché non si vedeva, di fatti. Sulla sinistra vado a scurire, perché comunque è tutto praticamente circondato da vegetazione fitta. Perché questa struttura è in un'area dura, però poi il bosco è veramente folto. È molto, molto... Come posso dire? Molto selvaggio, ecco. Allora, siccome avendo fatto la siepe non mi si vedeva più bene la casa, vado a rimarcare quei punti di ombra affinché si crei più contrasto. Adesso mi sembra che si veda un po' meglio. Metto la data. Io spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertita. Grazie. 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 Grazie.